Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuto a questo nuovo video di Mincazzo, io sono Pinciu E oggi andrò a fare uno dei Rage Game più famosi di sempre Perché per un canale che si chiama Mincazzo, il Rage Game non può mancare E inizierò col fare Cat Mario Quindi andiamo col primo livello Quindi vabbè, molto semplice Shalla, andiamo avanti Oh, ho evitato Ok, vai, fantastico Oh, il primo livello sta andando via che è una meraviglia Me lo ricordavo un po' più difficile Zitti ragazzi, zitti che forse riesco a superare No! Mastarda! Mastarda! Cioè, ci stavo riuscendo al primo colpo Ok Adesso non riuscirò più a Ma fa culo! Non riuscirò più Ad andare bene come stavo andando all'inizio Fantastico Ok No comment proprio, andiamo avanti Ok, quindi Ah, ecco Qui c'era qualcosa Vieni qui Ok E ora nuvoletta ti frego io No! Che cazzo? Si era buggato pure Vabbè Non ho capito quello che è successo Vabbè Quindi adesso abbiamo capito come va fatta questa parte Vabbè Vaffanculo la nuvola Che nuvoletti di merda intanto continuano a ridere Guardate là, sono tutte belle felici Io schiate che le so felici Ok 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 L'ho evitata Bene No! Non sono riuscito a scampare Porca troia Calma Vedete, io sono bello Sereno e rilassato Non mi sto incazzando No Io sono calmo E tranquillo Ok Scendete da brave Ok Oh! Che cazzo? No, no, scusatemi No, questa non l'ho capita Eh Ma perché si aprono le pagine a caso? Vabbè, ragazzi Non ho capito cosa è successo alla fine del primo livello E andiamo a fare il secondo Bene, andiamo Eh Ma come? Mi ha sbalzato fuori Perché? Come l'ho evitata? Come? In che modo ho evitato tutto? No, vabbè No, vabbè Questa è proprio bastarda Ok Ah, pure? Pure? Come se non bastasse pure Ok Ok Quindi il terzo Non lo dobbiamo prendere Uh Che culo Che culo Che è quella con la corona? No, 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 no Sarà a pensare La palletta super saiyan La Ok, quindi Allora abbiamo capito Il secondo Il quarto Possiamo prenderlo Questo Li possono saltare in testa Ok Guarda là La nuvoletta super saiyan Quindi abbiamo capito Che qua avrebbe esserci qualcosa Infatti No, no Vabbè Non puoi mettermi Blocco invisibile Che appena lo tocco Si rompe E cade E cado giù Sono ancora calmo E tranquillo Che? Che è successo? Come? Sono morto? Come? Ma posso Starmi tranquillo Cinque secondi Abbastardia di questo livello E che C'è quel blocco La ti fa morire all'istante E che tu all'inizio Se non ti muovi Muori Va bene Devo ancora capire La logica Di questo gioco Uh, cazzo No, ragazzi Questa la devo rifare La devo rifare Questa non la sapevo Allora Io prendo questo Cioè è una figata Muori da deficiente Perché alla fine muori Però È una figata pazzesca Palletta super saianti Ho evitato Ok, allora Dov'è? Qui ci sta il coso Giusto Evitiamolo così Eh Che cazzo è quello? Cos'era? Sbuga Un gatto gigante Dal tubo No Che culo Ok Quindi Sappiamo Come evitare questo? Ok Adesso dovrei Ritornare lì Dovrei ritornare lì Sto cazzo Sono infiniti Quei cosi Ok, perfetto Adesso devo capire Ah, ok Quindi se mi metto Tipo Qui Ok, ho capito ragazzi Se mi metto sul primo Loro non escono Mi escono Quando mi metto Adesso si attiva La trappola Quando arrivo sul secondo Sì, la bandierina Per un attimo Ho avuto paura Che c'era Qualcos'altro Di bastardo Oh, cazzo What? Tre addirittura Vabbè Quindi qua Se vorremmo fare così Vabbè Alla fine Non era tanto Difficile da evitare Oh, la stella La stella La stella Ma come? Ok Ok Vai Quindi ragazzi Adesso posso Ok Devo capire Come evitarlo Vaffanculo Ho saltato abbastanza In alto Cazzo Siamo calmi Tranquilli Tranquilli Calmi Dai che si è rotto bene Vaffanculo La stella Ah Ok Ce l'ho fatta Saltiamo Saltiamo questo punto Inderogativo Perché non mi piace Ok Ok Uh No 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 Era arrivato alla fine Cazzo Era arrivato alla fine No Era arrivato alla fine Porca Porca Troia No Dai Non ci voglio credere No 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 Vaffanculo Vaffanculo Meno Meno 42 vite Meno 42 vite Ovvero Sono morto Sono morto 45 volte Anzi 46 Se contiamo anche la vita a zero Esiste la vita a zero Dove sembra che su un gioco esiste la vita a zero E anche meno 42 vite Tanto questo qua non posso farlo così Cioè là devi avere il culo Qua se non hai il culo rimani fregato Ok ragazzi Ok No no Adesso questa cade Perché tu cadi Vero E adesso dovremmo farcela Infatti qua dovresti dare proprio leggero leggero E ok Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ok No No Vaffanculo Vaffanculo Cazzo Ce l'ho arrivato di nuovo No dai Non è possibile O se è il genere Non posso Settarmi checkpoint Cittando No eh No Non posso Perché mi è cazzo in testa Ok Adesso per la sera Se ne vaffanculo Perfetto E se è come prima Leggero Ok Perché vai a scatti Andiamo Superiamo Ok Ok fatto Fatto Perfetto Sì Sì Dai Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Sì Sì ce l'ho fatta Ragazzi Perché ho paura Che qui ci sia qualche altra trappola Ah non c'è niente Ok What Che cazzo Ho superato Sì Cioè quindi il primo era fake Il primo era fake E beh ragazzi Questo primo episodio Su Rage Game Di Cat Mario Finisce qui Ovviamente questo è il primo Cat Mario Erano i primi due livelli Quindi è parte Veramente Veramente Più semplici Di questo gioco Esistono 4 Di questi gioco Di questo gioco 4 versioni La prima La seconda La terza La quarta Spero il video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Porterò Ancora Cat Mario E comunque anche Altri Rage Game In futuro Lasciate un mi piace E un commento Iscrivetevi al canale Di Mincazzo Ciao a tutti